presentati mi chiamo Naikov Fuentes, ho 20 anni e vivo a Villa Franca di Verona e nella vita faccio lo studente hai mai lavorato nel mondo dello spettacolo? attualmente no, ho avuto esperienze nel mondo del cinema e ho una band che si chiamano i Fridays Rock con la quale abbiamo inciso già due dischi negli anni passati però quest'anno siamo fermi per problemi scolastici il tuo ultimo status di Facebook? ho taggato un video di calcio al mio compagno di classe se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? in questo momento mi canto una canzone di Enrique Iglesias che si intitola Hero I can't be your hero, baby I can't kiss away the pain I will stand by you forever You can't take my break away I can't be your hero Fai un appello al pubblico per farti votare? Niente, se vi è piaciuta la mia performance votatemi, grazie I can't be your hero I can't be your hero I can't be your hero